E siamo tornati qui al Country Road con Igor Pasin per questa meravigliosa intervista che è iniziata secoli fa e non so quando finirà ma a me piace ascoltare e quindi vi invito a condividere con me questa emozione, Igor. Eccolo qua, spero che anche a voi piace ascoltare, non solo a lei perché ce n'è tanta da dire. Per cui proseguiamo nella nostra intervista, quindi? Dopo tre o quattro anni era arrivata l'esigenza di inventare qualche cosa perché effettivamente ciò che arrivava dall'America era molto poco. Non c'era internet, non c'era YouTube, non c'era assolutamente nessun collegamento mediatico attraverso la rete diciamo così che poteva tenerti aggiornato su tutto ciò che succedeva. Anche perché il Country che piaceva a me sinceramente non era commercializzato, perciò non aveva nessuna struttura che potesse andare a divulgare la conoscenza. Perciò si faceva tutto tramite un passaparola di chi viveva quella determinata situazione. Ad oggi invece la percezione è completamente diversa perché hai già delle basi di movimento, hai già delle basi musicali, hai già delle basi di quella che può essere una cultura country e lì c'è la volontà di poter portare il tuo modo di vivere la musica con i tuoi passi perché è una situazione che si è evoluta ed è diventata l'ordine del giorno. Perciò molti dicono ok adesso mi ci metto anch'io a fare un ballo. Una volta non c'era questa cosa, è nata proprio molto molto precariamente, a piccoli piccolissimi passi. Diciamo che dall'inizio degli anni 90 fino al 2000 non c'è mai stata questa esigenza di creare dei balli. Si è formato principalmente nel 2007-2008 quando attraverso YouTube si vedevano i balli inventati da ragazzi qui in Europa, in Spagna principalmente perché erano i primi concorsi portati ad essere visualizzati attraverso internet, perciò la conoscenza, la visibilità delle persone che utilizzavano questi mezzi e perciò lì è nata anche l'interesse per capire come funziona, per capire cosa fare e quant'altro. Fino al 2005-2007 come appena detto come date, quelli che inventavano dei balli erano dei maestri che lavoravano assiduamente e erano arrivati nei punti in cui non arrivavano più dei balli dall'America o attraverso i collegamenti tradizionali, non attraverso internet che passavano delle musiche ballabili o delle coreografie. Perciò già lì qualcuno di queste persone, che comunque erano molto pochi, inventavano qualche ballo. Il mio primo ballo era stato nel 1993, ma era stato perché richiesto ad un festival in Germania di portare qualcosa di nato in quel determinato stato, non perché si volesse diventare coreografi, ma per portare un qualche cosa che fosse nato lì. Un tradizionale, ok. Non tradizionale, perché tradizionale corrisponde a una tradizione. Ah, dovevamo inventarlo nuovo. Inventare un qualche cosa che potesse essere inerente a quello che era la situazione e che potesse rappresentare uno stato. Io non mi sentivo sicuramente un rappresentante dell'Italia per quanto ricordavo il country. Ero piccolo, appena nato, non avevo quella grande esperienza, però erano dei pochi che facevano questa disciplina e volendo andare a partecipare a questi eventi. Con di destra. Ok, allora ho detto va bene, ne facciamo una, vediamo di portare un qualche cosa per esserla presenti e portare la bandiera dell'Italia, diciamo così. Perciò avevo inventato un ballo che ad oggi è conosciuto come Ghost in Disguitart. All'inizio era nato su un'altra canzone, aveva un altro nome. Il nome Ghost in Disguitart è stato fatto nel 96, per quanto riguarda questo ballo, quando l'ho ripubblicizzato con la canzone Ghost in Disguitart dei The Ranch come gruppo musicale. L'avevo fatta nel 93, ma qui in Italia non ha avuto successo perché era troppo difficile. Ad oggi fa parte dei balli semplici, ma nel 93 era troppo difficile. Perciò c'è stata tutta questa evoluzione che ci ha portato ad avere una percezione comunque diversa rispetto a quella di anni fa. Ed è per quello che adesso si ricerca ad inventare molti balli, perché è una percezione che ad oggi ci sembra molto alla moda. Alla moda. Diciamo così. Caspita quante cose interessanti e però ho 3.000 domande ancora da fare. Quindi ci rivediamo al prossimo appuntamento, sempre qui su questo divano, sempre al Country Road, sempre con lui Igor Pasini. E sempre con Tiziana. Perciò vi aspettiamo qui alla prossima. Ciao!